Buongiorno a tutti, un po' di rica prima di parlare del protocollo di TOTALLY DENTLUS. Nel protocollo di TOTALLY, abbiamo lavorato questo sistema, usando una registrazione di NAVI STENT o una registrazione di traccia, per cui possiamo discutere questi due protocolli in modo da fare il nostro sargento. Qualcuno di noi conosce molto bene come questo sistema funziona e voglio dire che possiamo aggiungere un altro strumento alla nostra pratica giornata che è offerta per noi dall'intelligenza artificiale. Significa che possiamo aggiungere in nostro software l'STL del traccia, per cui possiamo visualizzare meglio il traccia che abbiamo per fare il nostro planing. Quindi possiamo utilizzare in questo modo, per poter visualizzare la ptericoide area, per esempio. il traccia del traccia, per poter visualizzare il traccia, per poter visualizzare molto bene il traccia. Oltre livelli dell'03-sorto della stuzzia, per poter visualizzare il traccia, per poter visualizzare il traccia, così vedermi scorso il traccia. Perché abbiamo fatto il traccia per ottenere il traccia infidiare e il traccia interc ... e poi esporto solo gli STL come segmentazione automaticamente segmentazione quale software? Diagono Cut, per esempio, è uno di questi due compagni, ReLU e Diagono Cut in questo modo, puoi evitare di rinnovare questo è molto interessante in questo caso, non è un problema ma non è un problema ma come si in questa teoria in questa teoria come in l'unico come in l'unico come in l'unico si devi fare di fare un punto di rinnovare un punto di rinnovare un punto di rinnovare e poi la idea è che Navident il software di Navident fa automaticamente la segmentazione ok? ora abbiamo importe STL ma è molto semplice è meglio è meglio e poi la segmentazione di rinnovare il rinnovare il rinnovare il rinnovare il rinnovare il rinnovare di rinnovare di rinnovare si può fare anche si può separare il rinnovare di rinnovare un rinnovare un rinnovare per un rinnovare ma è molto più facile ma è molto più facile e quindi un rinnovare un rinnovare un rinnovare un rinnovare e anche gli altri rinnovare di navigazione funzionano usando la stereoscopi come un GPS due camere due occhi facendo una triangolazione reale tra il contrarianco e un rinnovare con il rinnovare e in questo modo con la distanza di questi strumenti reale sappiamo la posizione del rinnovare rispetto al rinnovare non al rinnovare ma al cbct del rinnovare perché se il cbct è un vecchio cbct puoi navigare la vecchia di passione quindi abbiamo due funzioni uno è basato di produire un rinnovare un rinnovare il cbct la preparazione del rinnovare e poi usando questo rinnovare abbiamo il cbct poi l'applicazione delle immagini rinnovare nel software e il rinnovare questo rinnovare rinnovare automaticamente dal software e poi possiamo usare il digitale e passare alla cura che tutte le operazioni erano corrette e poi possiamo approcciare i nostri punti e andare all'ultimo punto ok ora vediamo come questo workflow è accurate questo è un studio che ho pubblicato in JOMI e ho posizionato 231 implante nelle rinnovare e se guardate i risultati l'angular discrepazione è 2.26 gradi ma se guardate i primi 50 implante inseriti versus gli ultimi 50 implante inseriti vedete un grande miglioramento quindi voglio dire che c'è una curva per usare questo sistema ma continuiamo verso gli altri risultati che usano lo stesso protocolo perché gli altri sistemi usano la preparazione del radiologico e vedete che gli errori sono quasi lo stesso tra 3.5 e 2.5 gradi 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 ok ok il workflow è basato sulla registrazione significa che puoi scegliere alcuni naturali poi puoi tracere come radiologico scegliere e poi puoi fare l'intervento del CBCT con il cuore e passare alla scegliere quindi puoi avere un scan senza fare un radiologico scegliere radiologico ma vediamo vedere l'accurazione di questo secondo protocolo questo è un altro paper che ho scritto su questo giornale e ho creato 59 soggetti inserendo 136 implants ho diventato anche le semplici scegliere e 3 4 tif vs 5 6 tif se guardate i risultati abbiamo il stesso error con il primo protocolo quindi questo protocolo è molto simile con attraverso l'accurazione alla prima solo per vedere che non differenza quando abbiamo diventato le semplici semplici upper jaw e lower jaw e lower jaw ma voglio poter stress stress questi risultati quando diventato il semplice in 3 4 tif vs 5 6 tif vediamo vediamo che c'è una differenza statistica tra questi valori per ogni delle deviazioni che consideriamo quindi voglio dire che se usiamo il sistema registrato più punti traciamo più accurati sono i risultati ok come informazione per essere capito quindi se abbiamo tif che possiamo scegliere 6 7 tif se abbiamo bisogno di inserire almeno 5 mini se vogliamo raggiungere un buon risultato ora possiamo passare al protocolo voglio diventare il protocolo in due gruppi uno è un lavoro per trasportare la dentista a un implantato supportato e l'altro è un totale lavoro e attraverso lavoro perché a volte abbiamo alcuni tif che possiamo usare come radeologiche e poi possiamo ridurare durante il nostro sardegno sardegno è diverso dal secondo ruolo in cui non possiamo usare i radegni rimane rimane sardegno ho fatto un cbct del paciente e ho plane l'implant posizione anche ho prodotto il digitale del paciente e poi ho trasportato il digitale con i radegni rimane poi passato alla cirurgia e ho rilassato i radegni e come abbiamo visto nella presentazione possiamo andare alla cirurgia dopo rilassare il e dopo tracere l'implant ok questi sono i risultati finali tutti semplici questo è il provisional ok ora voglio discutere con voi quando siamo in questa situazione perché abbiamo alcuni rimane e poi possiamo fare l'intralorale di questo ma sappiamo che la posizione di questo è non la posizione ideale dei risultati quindi qual è il nostro approccio approccio è il nostro approccio non 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 abbiamo 3 ma voglio parlare del digitale che si 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 possiamo l'intralora impression di l'intralora scan e poi possiamo upload questo STL e overlay la posizione del STL della derivazione alla testa ok ma sappiamo che questo è non non la posizione corretta dei denti perché i denti non sono in la posizione quindi qual è il nostro approccio perché se usi un avident si ma se usi a second one you have to change the position so you just it's not you want to make all digital and make the same reference point and in navigate you add STL one that is tooth to the first STL you have to make just a trick as you can see in the first STL I told to the technician to make some digital reference to the first STL then he produced a second STL totally different from the first one but using the same point and then I introduced the second STL by treating it as bite in order to be overlapped to the first rest when you say point you mean something like ball or something like yes but you have to use the second STL as bite you can overlap the second STL to the first one that was my question so you say this is not max zero and this way you are not obliged to produce anything only digital the first CBCT without any SDL and then you can have your digital work by producing for free yes just as an example and an opportunity we have such situation I have to interrupt dr Luca you overlap two how did you introduce the second in the same way using the addition as a reference to to the second one yes not because he did DCBCT with these screws yes yes but in my case I didn't have teeth but in the case where I have teeth like this one I'm using more or less the same protocol because you can import it in the yeah more than one yes but you cannot overlap one to each other you have to use as a I didn't I didn't okay another case of large in this case the position of the remaining teeth to be extracted before the surgery were ruled so I didn't make anything just planned the implants then traced some teeth before the extraction and passed to the surgery okay when it's possible I insert always to the implants when it's possible okay and this is the final results with implants inserted in the correct position if you look at the results they were very good then before to extract the last teeth I took the intraoral impression in order to have some reference for the technician to produce the provisional and then I delivered the provisional to the patient also for this workflow I did I published a paper in which I used the remaining teeth before to be extracted a full arch now we can pass to the full arch when we don't have any landmarks to be used and to be traced any natural landmarks so we have to use our panorex an intraloral impression but we have to pass for sure for a digital WhatsApp that could be printed and instead of the of the mini screw I used these references that are cheaper and that are radiological and I don't throw it away the screws yes but you bet that these are cheaper no it's not it doesn't make any difference it's the same concept we can use whatever we want then you can try the yes the the prosthesis in the mouth of the patient and then there are also some balls appearing there also you can use even the fishing balls yeah this is also correct and then you can make the CBCT in order to to have the yes the bone volume but also you have to import to upload the CL of the digital WhatsApp by overlapping the radiological landmarks you had on the WhatsApp ok and you see that in your CBCT you can see very well your radiological landmarks ok and the perfect overlapping of the STL with the CBCT of this WhatsApp in this case you have to use for sure the minusclus no chance to use other other references and then you can pass to your surgery also in this case I use pterygoid implants and this is the final results and you see the correct position of the implants and the correct ok this is also the lower jaw the same patient 4 frontal implants and 2 short implants in order to have 6 parallel implants and this is the results also the delivery of the provisional I just want to introduce you and then I can finish with this slide some cases in which you are not sure which is the best treatment to be done for example this case in which as you can see you have no bone from in the right side until the molar area as you can see zero bone zero bone but also in the in the left side I have not yes probably I have not here the slide but if you look out of the box and the using now that you can have a solution that can avoid you zygomatic implants in this case is another typical case that we can treat we have one stable tooth and three teeth that are not possible to be used as reference because we're not stable so in this case also you can use just these tooth if you want to link the jaw tongue for example but you have to pass for sure for the miscreas ok and also in this case the patient had a removable prosthesis that was quite congruent so I just made the intraloral scanning of this denture just adding some radiological points and then I made the CBCT with this prosthesis in order to be used as digital workshop by using the denture of the patient this is the case also in this case the two dentures of the patient were congruent so I used them just adding some radiological landmarks to this denture and then I made the CBCT also in this case as you can see I planned two pteligoid implants in order to have six implants instead of the class all on 4 planning the tracing of the mini-sq and then after the accuracy the insertion of the pteligoid implants and this is the final results and as you can see the pteligoid implants were inserted in an accurate way with digital impression ok this is what I want to say before no bone in the right side and no bone in the left side so as the first solution I proposed to the patient to have a pod by adding two pteligoid implants but I decided for another less invasive treatment then I can show you when we speak about the atopic patient atopic very good ok thanks thank you thank you thank you thank you